Niente più gel sanificante a disposizione dei clienti. Fine dell'obbligo di distanziamento di almeno un metro tra clienti di tavoli al chiuso. Il cartello che indica la capienza massima dei locali non è più obbligatorio. Basta registrare le attività di sanificazione. Spento il rinforzo dell'aerazione per permettere il ricambio d'aria. Non più obbligatorio l'uso di menu sanificabili o in carta a perdere. A causa della decadenza del mancato rinnovo delle norme anti covid governative e locali da oggi i comportamenti negli esercizi pubblici padovani possono ritenersi tornati al periodo pre pandemia. Alla normalità. Ma normalità nuova perché i consumatori hanno imparato diciamo e questo forse è l'unico anzi sicuramente l'unico aspetto positivo che ha portato il covid. I consumatori hanno imparato a confrontarsi meglio con quelle che sono le buone prassi comportamenti da seguire per la sicurezza sanitaria. Una lezione che speriamo sia servita non solo ai consumatori ma anche ai gestori dei pubblici esercizi perché oltre alle specialità offrano ai padovani servizi igienici e locali puliti o imparino alcuni mica tutti a tenere ben lontane dai soldi le mani che forniscono cibo e bevande.